Ogni lunedì mattina fino al mese di maggio la Sala della Repubblica del Teatro Rossini e il Museo Nazionale Rossini si alterneranno nell'ospitare Dance Well, una pratica ideata 11 anni fa nel comune di Bassano del Grappa e già sperimentata in diversi contesti urbani nazionali quali Verona, Milano, Bergamo, Torino, Firenze e Roma. Si tratta di un progetto che promuove la danza contemporanea in contesti artistico-culturali a beneficio dei malati di Parkinson e di persone con ridotte capacità motorie. Progetto che in altre città già saputo produrre risultati terapeutici straordinari e che a Pesaro viene messo a terra da AMAT Comune Associazione Parkinson Marche con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. Le classi di Dance Well saranno coordinate da insegnanti certificate per un progetto che diventerà caso di studio per un gruppo di ricerca dell'Università di Urbino. Non l'avremmo mai fatto se non per un protocollo molto preciso che gli amici di Bassano del Grappa hanno sperimentato ormai da più di dieci anni. È un protocollo preciso questo Dance Well che prevede appunto che attraverso la danza e attraverso la bellezza dei luoghi in cui accadono queste sessioni di gioco in qualche modo, di danza, possa avvenire un miglioramento alla propria salute per i malati di Parkinson ma anche per tutti noi, davvero insomma un modo per renderci conto di quanto sia importante e vitale il lavoro che facciamo, perciò per noi è anche particolarmente emozionante. E poi ci accorgiamo appunto che c'è uno star bene che dilaga in queste comunità che si formano, che davvero aiutano a vivere meglio e affrontare anche la malattia non come un nemico ma come un compagno insomma di strada che sicuramente non impedisce di continuare a godere la bellezza della realtà. Un'occasione per non nascondersi, un'occasione per cogliere il bello, un'occasione per migliorare la capacità di equilibrio e di presenza del proprio corpo in mezzo alle persone. Perché il problema di fondo è che il Parkinsoniano, visto che ci sono tanti parkinsoniani, ognuno ha la sua malattia specifica, di solito si vergognano, subiscono lo shock della diagnosi e di conseguenza fanno di tutto per non far emergere all'esterno della casa dove vivono, dove abitano, la loro difficoltà. Noi siamo riusciti in questi tre anni dopo il covid a tirar fuori 80 persone nella nostra provincia, li andiamo a cercare una per uno, ci vengono a cercare e quindi questa è un'occasione ulteriore per promuovere la conoscenza di questa associazione che ha sede in via del cinema a Circo 900 a Pesaro. La difficoltà maggiore delle persone con Parkinson è proprio quello di non sapere da cosa è causata questa malattia e non sapere se ci sono delle terapie che possano far uscire da questo problema. Di Parkinson non si muore ma si sta decisamente male e le terapie che ci sono servono a rendere meno pesante la situazione e ad allungare i tempi di vita. Prevede per tanti numeri, dalle 10 alle 11 della Sala Repubblica del Teatro Rossini e al Museo Nazionale Rossini dei corsi di danza contemporanea, dei momenti di danza contemporanea funzionali chiaramente alla mobilità del corpo e anche a entrare in sintonia con quelle che sono naturalmente le complicazioni ma anche la facilitazione della vita del movimento per i malati di Parkinson e quindi sarà una bellissima occasione per unire veramente cultura e cura attraverso un approccio anche naturale a temi contemporanei veramente socialmente rilevanti. Noi pensiamo che casi come questi siano molto interessanti perché la dimensione artistica, sperimentale e creativa è molto forte, quindi c'è una intenzione artistica, cioè le artiste e gli artisti coinvolti si trovano a partecipare a un progetto che è in linea con la loro ricerca e questo sicuramente dà valore anche all'esperienza di chi poi la fruisce o partecipa perché fa anche tanto bene, però quella è uno degli aspetti secondo me, da quello che posso aver capito fino adesso.